Io propongo di organizzare il lavoro così. All'inizio vi mostrerò il livello fino a che grado il testo è strutturato a vari livelli. Così voi potrete accorgervi di cosa occorre rivolgere l'attenzione quando si legge attentamente il testo. Quello che dirò oggi riguarderà praticamente soltanto i primi due capitoli e mezzo. Io penso che non parlerò troppo lungo poi potrete fare domande voi. Qualcun carattere. Perché io scrivo e perché voi progettate domande di qualsiasi tipo. Sia su quello che dirò io, sia su quello che voi avete letto, sul libro nel suo intero. Ma oggi cercheremo per quanto possibile, per quanto ci riusciremo di non fare il passo di parlare di tutti i sette, di fare riferimento a tutti i sette libri. Perché se invece lavoriamo con uno sguardo totale dall'alto su tutta l'epopea, Molte cose le perdiamo di vista. E noi cominciamo a farlo non con il testo, ma con il nostro attraggimento. Tanto che facendo così inizieremo ad avere a che fare non con il testo, ma con il nostro rifletterci nel testo. Inizieremo a reagire a quello che a noi colpisce di più come un effetto trigger. Che cos'è questo effetto trigger? Trigger è quello che ci rimanda immediatamente alla nostra propria situazione. E noi di norma leggiamo così i libri. C'è qualcosa che ci fa scattare, fa attivare questo trigger e noi entriamo nella nostra propria storia. C'è qualcosa che ci fa scattare, è molto emozionale. Viviamo qualcosa, sentiamo qualcosa, proviamo delle emozioni forti. E questa è una cosa utile se la sappiamo usare nel modo giusto. Ma è una cosa che ha molto poco a che fare con la lettura di quello che si trova davanti ai nostri occhi. Mentre l'idea era di aiutarci a capire come leggere questo testo, cioè capire cosa è scritto nel testo. E la prima cosa che occorre dire chiaramente è che si tratta di un testo che è scritto in inglese. Perciò chiaramente sarebbe meglio leggerlo in inglese. Se non avete questa possibilità perché non avete ancora imparato abbastanza bene l'inglese e vi è più semplice leggerlo in italiano, potete almeno alcune cose dove vi accorgete che nel testo dite ma qui c'è scritto qualcosa di strano. Potete andare a osservare queste parti del testo per vedere come sono nel testo in inglese. E già in questa fase si troverebbe la risposta a molte domande. La seconda cosa è che si dice questo, la Rowling ha scritto i suoi testi nel corso di molti anni. e poi ci sono tutte le cose che ha scritto. Le cose che ha scritto sono comparse piano piano, cioè lei non sapeva cosa ci sarebbe stato dopo quando ha iniziato a scrivere, quando ha scritto i primi libri. Ma se noi prestiamo attenzione anche soltanto ai personaggi che lei inizia a citare, a menzionare nei primi capitoli del primo libro, vediamo che già lì compaiono tutti i personaggi più importanti come minimo dei successivi quattro libri. Ad esempio compare Sirius Black che poi nella trama entrerà in scena molto più avanti. Compare già qui. Quindi noi capiamo che già fin dal primo capitolo ci viene mostrata una prospettiva. Perciò dobbiamo tenere presente che non abbiamo a che fare con dei libri frammentati, con una serie di cui a un certo punto è comparse un determinato piano. Ma che qui c'è un disegno. E questo disegno, seguendo determinate tappe, sarà realizzato. E poi un'altra cosa molto importante è quella di semplicemente vedere l'interno. Perché anche l'indice è un particolare, specifico tipo di testo. E se noi anche soltanto guardiamo le definizioni dei primi quattro capitoli, vediamo già una determinata storia che si delinea una determinata storia. Adesso ve li dico. Perché possiamo tenerli in mente quando parleremo di alcune cose concrete. e quindi vedete. Il bambino che è sopravvissuto. Se è un po' diverso in italiano traduco da lei. e poi se c'è qualcosa niente. Escezono 6 sticoli. Il vetro è scomparso. Il vetro è scomparso, sì. Il vetro è scomparso. Io credo che non sempre potrebbe essere scomparso. Ne, ne, ne. Non c'è. Non c'è. Da qua ad linearsi una storia che poi si chiarirà. I titoli dei capitoli bisogna tenerli in mente. E poi? Da cosa inizia, da cosa prende le mosse tutta questa storia? Inizia con una frase che in cui innanzitutto si dice Ho famiglie, tioti e dadi di Harry Potter. Noi non conosciamo niente. Si parla del cognome dello zio e della zia di Harry Potter. Noi sappiamo ancora che sono i suoi zii. E del numero della casa in cui vivono. Il numero 4. Il numero poi si ripeterà di continuo. E questo numero 4 è una cosa estremamente importante. Numero 4, la cifra 4. Perché è il numero 4, la cifra 4. È quella cifra che in tutte le dottrine sia esoteriche che nel cristianesimo. è il numero 4, la cifra 4, la cifra 4. Cifra 4, la cifra 4, la cifra 4, la cifra 4. Cifra 4, la cifra 4, la cifra 4, la cifra 4. Cifra 4, la cifra 4 è la cifra 4, la cifra 4. E il numero 4, ma cifra 6. Cifra 4, il numero 4. Cifra 4 è la cifra 4. Cifra 4. che loro sono orgogliosi del fatto che possono dire di se stessi di essere assolutamente normali, grazie, grazie mille, cosa vuol dire questo grazie mille, va benissimo così, non facciamo nessun passo oltre a questo, e poi noi vedremo come loro, soprattutto Vernon, perfino con abnegazione, fanno di tutto perché R rimanga entro, sia custodito entro i confini di questo mondo. Sono persone che tendono a mantenere questo quadro, questa immagine, questa immagine, del mondo fissa entro questi confini, qualsiasi cosa accada. E vengono chiamati babbani. Magle, sì, questo è importante perché... Questa parola è importante sentirla proprio in inglese, perché la Rowling costruisce tutto anche sui giochi di parola. Magle, smagle. Smagle. Smagle, è contrabbandista. smag è controbanda sono i controbandisti e i controbandieri grazie il verbo inglese smag vuol dire fare contrapanno cosa è una merce di contrabando cosa è il contrabando è qualcosa che non è legalizzato nel mondo nella quotidianità nell'esistenza normale quindi i muggles cioè i bambini nel nostro testo sono quelli che non sono legalizzati nell'esistenza è come se non avessero qualcosa poi dopo vedremo poi capiremo che cosa gli manca qualcosa che invece permette ai maghi di entrare in rapporto col mondo il mondo non li vede non vede i maghi così come i maghi non vedono il mondo cioè vedono il mondo come qualcosa di morto la magia è vedere le cose del mondo come vive come ciò con cui si può entrare in interrelazione la magia possiamo dire è una modalità di rapporto con le cose da soggetto a soggetto e di conseguenza dall'altra parte i muggles sono quelli che vivono in un quadro nel mondo fisso immobile e non a caso Vernon si occupa di vendita di che? di trappani di trappani a cosa servono i trappani? lo scommeranno per quello che si occupano le mobili sofferenze mi occupano le cose lo scoperenze rafferano i buchi per costruire i mobili per fissare le cose per mettere a posto le cose Cioè, si fa un lavoro che serve per creare, per mettere a posto questa situazione, condizione del mondo fissa. Ecco perché vivono in una casa che è al numero 4, e che il numero di casa loro continuerà a essere ripetuto nella trama. In inglese è molto forte, perché è il numero 4, perché è il numero 4, perché è il numero 4, perché è il numero 4. Cioè, è quello che hai detto tu, che sono proprio definiti come sono quelli del numero 4. È la loro prima caratteristica, è la loro caratteristica principale. Cioè, è la prima cosa che ci è detta di loro, che sono quelli del numero 4. Ecco, perciò pian piano noi iniziamo a vedere come questo mondo si organizza. E nel testo ci sono tanti giochi di parole. Perché l'indirizzo del luogo dove vivono si chiama private drive. La prima associazione è private, privata. Cioè, privata è una pianta. Cioè, privata è una pianta. Non so che pianta sia. Non ho la più palle di idea, ma se avete ecco, bravi. No, te atcroi, ma se non è traduzione. In italiano non è traduzione. Cos'è? Il ligustro. Il ligustro. Non è un argusto. È un argusto. È un argusto. Non è un marato, ma è un marato. Una delle piante. Non direbbe, che sono sono costi. E Francesca dice, siccome èADO, questi sono costi. Cioè, è un argusto, dove è diventata il luogo? è un armozzo che ha dei frutti, delle bacche, che produce delle bacche velenose da una parte c'è questo suono che è consonanza con la parola inglese private, cioè privato dall'altra parte sono questi arbusti con le bacche velenose e quindi abbiamo già scoperto, siamo già venuti a sapere moltissime cose su dove ci siamo trovati. E cos'altro è importante qui? I nomi sono tutti importanti ed è un campo immenso di possibilità di ricerca. Io stessa in questo momento ho capito fino in fondo solo alcuni dei nomi. Quindi è davvero questo un campo che ha tantissime possibilità per fare una ricerca anche comune, condivisa. Per esempio dei nomi che compaiono già nella prima parte sono i nomi di due sorelle delle delle due sorelle della mamma di Erri, Lilia. No no, Lilia è il giglio, è un fiore. E petunia è un altro fiore. Adesso per ogni evenienza ve li faccio vedere. Vedere anche il ligustro. Questa è la petunia. E ci sono ancora qui erano due petunie, non lo so. guardiamo questa petuglia la storia non è scocciata ma non è molto bene allora ne avevo un'altra ma dice che non la trova il problema è è che non c'è la prima non era quello che c'è la prima è che non c'è l'arancia rosa non c'è l'anima non c'è l'anima non c'è l'anima no, quello era il giglio questa è la petuglia non è molto bene non è molto bene è una stella forse non si vede bene da questa immagine che la petuglia è una stella molto precisa è una stella a cinque punti la petuglia è il simbolo dell'uomo e la stella a cinque punti è il simbolo dell'uomo e inoltre ha dentro questo pistillo c'è un gioco che fanno i bambini c'è un gioco che fanno i bambini i bambini prendevano il pezido dei fiori, lo tenevano così tra le dita senti, ci sono? a tecini, i come biazza la pesta, quando ti accrociano il pezido cioè c'è ci sono? a ci sono? c'è ci sono? c'è ci sono? sono? nel pezido ci sono? a ci sono? Io vorrei dire, ma non mi raccomando. In torno al pistillo ci sono... Cosa ci sono? Qualche biologo? Cosa? 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 Non ci si è necessario Cosa? 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 Nel momento? No. Poi arriva con la nuova versione. No. Ma... e gli stami in ordine, cioè uno dopo l'altro, si vanno a picchiare, a sbattere contro il pissillo. Questo è lo stame e questo è il pistillo, picchiacontro. E loro vanno a sbattere contro il pistillo, che è fatto dalla parte superiore, lo stigma e poi lo stimolo. Un po' di biologia, ma fa male. Non ha uno scopo, è semplicemente che sbattere. E' come funzionano gli orologi meccanici, con i martelletti che picchiano a turno. E qui si vede in modo molto chiaro, quando prendete una petunia provate e lo vedrete. Quindi, la stella ha cinque punte e queste ore che battono. E adesso guardiamo un video. Prima di tutto, mi chiedete di cosa si differenzia. Prima di tutto, mi chiedete di cosa si differenzia. Che ha sei. Sì, esatto. Prima di tutto, ha sei petali. Ma perché l'uomo è singoleggiato nella stella cinque punte? Perché abbiamo cinque organi sensoriali. E questo qui compare un sesto senso. Ed è proprio per questo che il giglio è il fiore degli angeli. Il giglio è il fiore che troviamo su tutti i quadri, le raffigurazioni dell'annunciazione più famose. Il giglio è sempre come un messaggio che arriva da un altro mondo. Per cui i messaggeri che arrivano dall'altro mondo compaiono con il giglio. Certo. Ma come vediamo che in sviluppo di questo significato del giglio nella cultura europea, in cui il giglio in generale viene inteso come il fiore della madre di Dio, il fiore del paradiso e il fiore della madre di Dio. Qui compare non solo il momento del sesto senso, ma anche un'associazione immediata, diretta, al fatto che il giglio è il simbolo di Colei che ci porta il salvatore del mondo. Quello che stiamo guardando adesso sono cose supremamente evidenti che, seguendo il testo, si possono riconoscere facilmente. In realtà questo è un testo estremamente denso. E guardate che perfino a livello della prima frase da una parte delle informazioni di livello più profondo e lo fa utilizzando questo numero. A s'altra parte, in generale, non si parla solo di parlare, ma anche sulla loro informazione di livello più profondo, la dice, la proferisce anche apertamente da una parte ci comunica che sono gli abitanti del numero 4 e dall'altra parte ci dice che erano orgogliosi di dire che erano assolutamente normali che loro erano quelli che non avevano questo sesto senso che non avevano alcun'altra dimensione in più sono quelli che dicono grazie, noi stiamo qua e praticamente tutto il romanzo è costruito così perciò lo potrà perciò perché lei come se costruisse la storia una storia che porta un'energia una determinata energia molto potente ma allo stesso tempo racconta questa storia con un linguaggio tale che ci permette che ci permette di vedere ancora di più e più profondamente le cose di cui parla nella trama principale fondamentale nella storia fondamentale non è detto niente della differenza tra i maghi se non quello che è evidente quello che è chiaro mentre se noi leggiamo il linguaggio dell'autore se noi leggiamo il come scrive il come parla e non che cosa dice noi molto rapidamente e molto bene capiamo dov'è la differenza per gli uni è importante un quadro del mondo fisso che fosse accessibile dentro i loro determinati confini che non volevano in nessun caso ampliare mentre per gli altri era importante altro qui qui nella prima riga del libro non sappiamo ancora cosa ma questo qualcosa che è importante per gli altri comparirà molto rapidamente ripeto c'è qualcosa che la Rowling scrive proprio direttamente nella storia dice direttamente nella storia quando mister Darsley è stato viaggiano per gli altri ad esempio la prima volta che vediamo mister Darsley uscire di casa un gatto un gatto che leggeva una mamma un gatto che leggeva una mamma in inglese c'è scritto tabby cat tabby indica innanzitutto che è una gatta e non un gatto in secondo luogo significa che è a strisce e terzo tabby uno dei significati della parola tabby è zittella se noi ci ricordiamo chi è non so come si dice in italiano Minerva la Megre la Megre si tratta di lei in una parola è lei voi ma quello che adesso per noi è importante è che Vernon guarda il gatto e dice il gatto scusca citare il gatto dice la gatta vede la gatta che sta leggendo una mappa una mappa mappa tutti e due l'esempio è che dopo il secondo momento quando dice che sta leggendo il segnale pensa no chiaramente la gatta sta guardando il segnale cosci non le gatti non sanno leggere qui la rolling ci mostra come l'uomo stabilizza rende stabile la sua immagine del mondo aveva visto qualcosa era come se fosse entrata una fessura aveva visto che la gatta leggeva ma fa subito un passo indietro e torna alla sua posizione originale no i gatti non sanno leggere sta semplicemente guardando in realtà nel testo è continuamente detto che se i mambo se i babbani avevano notato qualcosa continuamente dovevano cancellargli la memoria ma come si capisce già qua si trattava in realtà di una procedura che si usava molto di rado perché i muggles riuscivano benissimo a cavarsela da sole non notare loro stessi che continuamente purificavano la loro immagine del mondo da quello che avrebbe potuto ampliarla qui è e questa è una differenza base tra i mag e i magi Perché i maghi, per entrare in rapporto, in interrelazione con la realtà, dovevano vedere le cose così come erano. E non come gli avevano i sogni, cioè sta cercando di dire che questa immagine del mondo, questo quadro del mondo è un qualcosa di sociale, è qualcosa che viene... ...resa stabile, fissata dalla società. In qualche modo noi, fin da quando siamo molto piccoli, sappiamo che cosa si può vedere e che cosa non si può vedere. E se c'è qualcosa che non è concesso vedere e noi lo vediamo, significa che c'è qualcosa che non va con la nostra testa. E quindi ci cureranno. Questo è il processo di stabilizzazione di questa cartina del mondo. Questo è il processo di stabilizzazione, rendere stabile un certo quadro del mondo quello che c'è e quello che non c'è in quel mondo. E i maghi sono quelli che si sono rapacificati, hanno accettato il fatto che c'è solo quello che c'è. Quello che tutti sanno che quello c'è. E tutto il resto è follia. E qui, in questa scena, Rowling ci fa vedere un momento molto limpido di questo negare. Non c'è. Ci mostra un'operazione che in realtà noi tutti facciamo continuamente. E ora torniamo ai nomi nel primo capitolo. Perchè ci viene subito parlato del figlio. Allora, guardate come è tutto interessante. Inizia tutto con i Darsley. Come se loro fossero i protagonisti, perchè tutto inizia dai protagonisti. E loro hanno un figlio. Ma non è chiaro che i protagonisti non è chiaro. Perché non i figli, ma i figli. Per cui ci sono i Darsley, ci dicono che hanno un figlio. Questo qui è chiarissimo che è il protagonista. Perché di solito non sono i genitori di cui si parla, ma il figlio. A essere il protagonista. Questo ce lo dice qualsiasi fiaba. C'era un contadino che aveva una moglie. e poi loro avevano un figlio. E si capisce che la storia sarà la storia del figlio. Il protagonista è il figlio. Inoltre ci sono dei certi potter. Con cui loro non vogliono avere nulla a che fare. E soprattutto non vogliono avere nulla a che fare. E soprattutto non vogliono avere niente a che fare con il fatto che anche loro hanno un figlio che è coetaneo del loro. Ora guardiamo il nome Dudley. Datt in inglese è... In inglese è un figlio che è una cosa finita. ma una cosa... Ma una cosa... Kalsivata è finita. Diffetto ed è tutta. isparcendo. anche se poi non è impeccionato. No... è sempre più... Datt l'abili da quello che fa... Scalifichata ci sono anche stagate. Magdella è così, ma la risposta. di non originale per esempio questo è artificiale sì questo è un pinto bicchiere un bicchiere di plastica grazie di questa spiegazione ma farlocco farlocco scusate non lo so non è autentico non è autentico ma ci deve essere una parola più giusta qui mi danno bidone fiasco no bidone nel senso l'imbronio non è una cosa autentica e originale un imbronio regatura un fasullo un fasullo un imitazione un imitazione la mamma non lo chiama quasi mai D'Adli lo chiama sempre con diminutivi ad esempio lo chiama D'Adli 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 abbiamo capito cos'è D'Adli D'Adli è un fictivo e anche D'Adli D'Adli significa falsi anche questo significa imitazione ha dentro proprio l'idea di qualcosa che si mette al posto di qualcos'altro che si sostituisce a qualcos'altro mentre il nome Harry di cui Petunia chiaramente dice un nome più solito è il nome quasi della maggior parte dei re inglesi e da Shakespeare prima da questa cronica a sam'am isumitimum carale Anglia e in Shakespeare la cronica sul re più stupefacente dell'Inghilterra si chiama così, il principe R è chiaro che tra l'altro la Rowling Dostoyevsky l'ha letto e che l'ha letto bene perché, per esempio, ricordatevi come la scuola in cui vogliono spiegare? ricordatevi chi vogliono spiegare? adesso si chiama scuola in cui vogliono spiegare? ricordatevi il nome della scuola dove volevano mandare Henry e Darsen si chiamava Stonewall High cioè alto muro di pietra se ricordatevi se ricordatevi scritti da sottosuolo questo è molto importante questo nome di questa scuola dove volevano mandare Henry e Darsen un alto muro di pietra è la tappa successiva del loro tentativo di circondarlo che non potesse andare fuori nulla mentre la scuola dove volevano mandare Darsen è Dudley si chiamava Smeltings Smeltings è prima di tutto il plavio cioè il plavio di metallo Smeltings è innanzitutto il fondersi il fondersi del metallo è come se fosse un pentolone dove tutti insieme venivano fusi si chiamava spaventare spaventare staventano cittadini anglici venivano fusi per diventare membri di questa scuola per ottenere le qualità di questi membri della società inglese ma smelt è il prossimo tempo di smelta ma smelt è anche il passato di smelta cioè odorare, puzzare anche questo questo è anche questo 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 Stonewall High scuola non è una volta ma due La parola, il nome della scuola dove volevano mandare Harry, Stonewall High, compare nel testo una o due volte. Ma capite quanto è importante? Ecco, questo testo è costruito così. Ha detto che ho già superato il limite di tempo. Cosa ci posso fare? Questo testo è... No, dipende da cosa vogliamo fare. Se volete vi racconto ancora perché il terzo capitolo si intitola... ...vetri che scomparono. E in realtà ciò che succede, chi si tratta? Secondo capitolo. Secondo capitolo. E cosa succede? Certo. 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 Perché Harry, in modo del tutto consapevole... Si mettono insieme tre maghi. Non vi fa venire in mente niente questo? Tre maghi. Tre maghi. Tre maghi. Tre maghi che si riuniscono intorno a un bambino. ... No. Valtier. No, da, connessione. E... ... ... ... ... ... ... ... untukоз Penampelen Dürer... Ad esempio, guardate questa imagine. Di chi? Dürer ... ... ... ... ... ... ... ... ... vediamo il rosso, il verde, e poi vediamo che uno dei remaggi è nero e ha vesti scura se vi ricordate, ma probabilmente non vi ricordate Dumbledore arriva con un mantello rosso Lamegrane con un mantello verde e Hagrid non sappiamo neanche come è vestito, ma lui ha detto continuamente che è tutto nero e qui vi farò vedere ancora i botticelli questo è incredibile vedete? vedete? vedete 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 �orem vedete i ritorni sono evidenti vi riuniscono se questo bambino e decidono di lasciarlo nella parte più bassa di tutte le parti possibili del mondo. Perché, come dice la McGrannit, che era stata a osservare i Darsley tutto il giorno, non c'è ovviamente diversi McGrannit, ma questo è proprio McGrannit e McGrannit. Dice che i McGrannit sono diversi tra loro, ma questi sono proprio i più McGrannit di tutti. E questo è il mio bambino che resta nella parte più bassa della nostra vita. Ecco, quel bambino, quel infante che rimane nel punto più basso del nostro mondo, viene lasciato lì. Ci sono tantissimi teologici. Perché non hanno parlato solo della chenosi, cioè della discesa di Dio, ma proprio del fatto che è sceso nel punto più basso del nostro mondo. Perché per loro non si era trovato un albero. Perciò nasce letteralmente con degli animali. Ed ecco che Henry viene lasciato lì. e Silente dà una spiegazione. Stamattina io sono andata a una messa, che era una messa per i bambini. E il sacerdote ha fatto la predica. parlando del fatto che Dio non vi dà quello che voi volete, ma quello che per voi sarà la cosa migliore. E c'erano i bambini e lui ha fatto questo esempio, se voi chiederete a Dio un milione di dollari, probabilmente lui non vi darà. Perché non sarebbe affatto la cosa migliore per voi, anche se voi pensate che probabilmente sarebbe una cosa bella. Perché se voi riceveste tutto così, smetterete di crescere. E il Signore creerà per voi situazioni tali, circostanze tali per cui voi possiate crescere al massimo. E che cosa dice Silente? Quando McGranny dice che questo bambino è una leggenda del nostro mondo, tutti lo conosceranno. Tutti sarebbero felici di prenderlo con sé, di tenerlo con sé. E lui dice che è una leggenda del mondo. E lui, che è proprio una leggenda del mondo. E lui non si ricorda cosa gli è successo. Cioè, come se gli dessero un milione di dollari in un momento in cui lui non può neanche capire che cos'è una banconota. E tra le altre spiegazioni, Silente trova un posto in cui lui non è una leggenda, in cui non sono tutti lì a pensare che stare in rapporto con lui sia un onore, ma addirittura al contrario. e così, come si ricorda. E così 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 ricorda. Ma, in realtà lui mette lì proprio dove? E così ricorda. E così ricorda. E così ricorda. E così ricorda. C'è la cena di cui lui può potrezzare il lì, dove di poi prescrivere il giification. La caratteristica. Il gioco della caratteristica. Cretanto c'è l' te습니다. Perfect yeah. Certo... Dì, новa Почему? E lui può acquisire un senso, può sentire fortemente che cosa sia il valore. e l'adeguatezza dell'uomo adeguatezza cioè può iniziare a sentire l'uomo può non sbagliare nel sentire l'uomo ad esempio lui sente subito a prima vista chi è dracco quando lo incontra acquisisce la capacità di distinguere gli uomini di capire chi sono le persone che ha davanti non cede a nessun tentativo a quelli che cercano di manipolarlo a partire da quelle che sono le cose prestabilite cosa è bene e cosa è male come si dovrebbe cosa si dovrebbe fare R vedrà sempre molto chiaramente chi si trova davanti e non sbaglia quasi mai in questo io capisco che un'altra cosa importante è questo vetro che sveglie Perché Harry non è a caso che vive in una cupboard. In inglese la parola è cupboard, cioè letteralmente è il posto dove si tengono le posate, le pentole. C'è un posto dove devono stare le pentole e non le persone. E Harry vive questi suoi primi anni letteralmente in questo posto che sarebbe per le pentole, le stoviglie. E come potete ricordare questo libro si intitola La pietra filosofale. Nella torta, cioè nell'ambicco, per alchemo, la costa da Suda, la costa da Suda, 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 da Suda. In un certo senso lei sta usando la stessa parola che significa stoviglia. non venivano generate solo le pietre filosofane ma anche gli uomini, gli omuncoli che cosa sono questi omuncoli? sono degli uomini incorrotti che non sono stati corrotti perché nella storta il tempo veniva riportato prima della caduta del peccato era il modo in cui veniva generata attraverso quei processi veniva generata la pietre filosofale e l'uomo incorrotto, l'omuncoli e proprio dopo il capitolo che si intitola il vetro svanito quando iniziano ad arrivare le lettere da nessuno Harry cambia posizione cioè non vive più nella casa viene spostato in una stanza nella camera da letto da quella credenza viene spostato nella camera da letto cioè spostato da un luogo che era il luogo dovevano stare posto per le stoviglie a un posto dove c'è la camera da letto che è pensato per gli uomini e questo accade contemporaneamente al fatto che lui era un boa, era il serpente, non mi ricordo che era un boa che fa uscire il boa lo fa uscire da quella scatola di vetro e finalmente andare in Brasile dove non era mai stato sono due storie parallele il bambino che non apparteneva a quel mondo era stato tenuto e rinchiuso dentro con la presenza e il vetro che svanisce e il serpente anche il serpente che era stato lì generato lì, era cresciuto lì e entrambi in quel punto iniziano a tornare verso quel paese che non avevano mai visto ma a cui appartengono quindi questo titolo del vetro che svanisce si riferisce a entrambe le cose sia quello del serpente e qui accade un'altra cosa bellissima perché vediamo che uscire oltre i confini di questo proprio vetro dove si era rinchiusi dentro nel posto dove si era? che era stato rinchiusi solo nel processo per cui hai liberato un altro dal suo essere rinchiuso e direi che possiamo fermarci qua mi chiedo scusa perché ho parlato molto di più di quanto avevo intenzione di fare l'ho fatto perché mi sembrava importante farvi vedere come è costruito il testo per darvi poi la possibilità di lavorare sul libro a vari livelli considerando il testo a vari livelli se avete qualche domanda non dovete invece andarvi subito posso anche rispondere grazie a tutti grazie a tutti innanzitutto i nomi e poi parole che non conoscono per esempio la parola magle in inglese non existe come in italiano la parola magle in inglese non so cosa faccio i traduttori da voi ma potrebbe si collaborare con il testo con le variazioni del testo è che hanno fatto una traduzione nuova adesso e questo corrisponde allo spirito del testo della Rowling ma il problema è che la Rowling è un filologo geniale e quindi riesce a inserire in una unica parola tutto un insieme di associazioni, di rimandi ad esempio rispetto alla contrapposizione base tra due nel primo capitolo quello di cui si dice quello di cui si dice dall'altra parte dall'altra parte voldemort 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 può essere il volo della morte può essere può essere il furto della morte dalla morte può essere il furto della morte c'è tutta una serie di possibilità di significati nel nome ma in ogni caso rimane che la parola base dentro il nome è la parola morte e se traduciamo i nomi se uno si mette a tradurre i nomi se il traduttore decide di tradurre i nomi questo imam bisogna перевести come in соответsione per l'attività per l'attività deve tradurre questo nome facendo in modo che la parola base rimanga la morte ma in qualsiasi modo decida di tradurre tutta l'altra parte dei possibili significati va persa ma questo è molto importante perché questo è quello di cui si dice la morte ma mentre è molto importante perché questo qualcuno di cui non si dice il nome e c'è il nome Morre c'è la parola morte è proprio fin dal primo capitolo messo in contraposizione quel qualcuno di cui parlano tutti il bambino che è sopravvissuto c'è la contraposizione tra la morte nel nome di quello di cui non si pronuncia il nome e la colui che è sopravvissuto in quello di cui parlano tutti e in questi intrecci complessi quindi tutto il testo è costruito di questi intrecci molto complicati come possa lavorare il traduttore non lo so in questi intrecci ovviamente non è abbastanza evidentemente spiegare non è abbastanza se lei abbia spiegato tutto in un'introduzione temo che la sua introduzione sarebbe stata più lunga dei testi che io ricordo perché c'è un lavoro molto forte proprio da filologo ma si vede che le questioni fondamentali sono i nomi tutti i nomi diversi nomi non solo nomi di persone ma anche i nomi dei luoghi delle piante molto importante sarà molto importante quando la questione delle bacchette magiche di Harry di che albero è fatto dal cuore di che albero è fatto è molto importante di cosa è fatta la bacchetta dei diversi personaggi cioè tutti i nomi sono sempre tutti importanti e sono sempre importanti le parole che non esistono sono sempre importanti le parole che non esistono di norma portano in sé tutta una serie di rimandi linguistici corrispondenti ad esempio il quidditch è tutto un mondo in italiano è così? porta in sé tutto un mondo enorme ma non abbiamo tempo oggi di parlare allora faccio un'altra domanda io perché ho proposto dei nomi la banca Gringotts la mia banca Gringotts ok e quando a un certo punto vanno per prendere i soldi insieme a David vado a prendere i soldi di Harry e quel pallone poi ci sono incisi su la seconda porta delle parole E' un punto che abbiamo discusso tantissimo con i miei studenti. Abbiamo parlato molto molto, ma ti è un punto che ti aspetta, se sarai in giordo. Ti aspettavo tra chi prende, ma non può dare. perché chi prende, ma non può dare. Lui scusa? Perché chi prende, ma non può dare. che chi è estragno, ladro avvisato, mezzo salvato, più del tesoro non va cercato. Quindi da una parte sembra più dica. Perché quando dice più del tesoro non va cercato, cioè prima sembra di dire, sembra che dica questo tesoro non lo devi prendere, cioè se cerchi nel sudterraneo un tesoro che ti è estragno, ladro avvisato, e poi invece dice più del tesoro, non lo ha cercato. Non è nada iscat, bozze, gemme, sacco, bisce. Tutto è napisano, da, vor, che se ti preduprieggio, da, of finding more than treasure. In inglese, in inglese è diverso, cioè, aspetta, in inglese è, ladro si è stato avvisato, di, stai attento di trovare qualcosa più che non un tesoro qui. Traduzione. Traduzione. Tu sti messi vedo sto drago o non hai, Giorgio? Che qui troverai qualcosa di oltre al tesoro, non più del tesoro, si intende dire che troverai il drago. Ci troverai un altro. Con il tesoro di riserva, giusto? Come? Cioè, qua, nella mia, dice, traduce, come ben altro con il tesoro che è riservato. Più o meno. Si è stata ingannata. Cioè, è molto, è quello che vi dicevo all'inizio, quando trovate delle domande così, spesso sono legate ai problemi di traduzione, andate a vedere il testo. Più nel tesoro non ho accertato. Ma no, è un altro con il tesoro che è riservato. È un'altra cosa proprio. Ma perché, quindi, ci abbiamo fatto la traduzione dopo i sette libri, perché all'inizio l'hanno fatta, tanto un partente, libro per libro, e man mano crescivano, e alla fine si sono resi conto che c'era un'architettura di cui loro non potevano ancora sapere, e quindi hanno riprosi in mano tutta la traduzione quando hanno fatto questa. E' un'architettura di cui loro non potevano, perché è un'architettura di cui loro non potevano. C'è un'architettura di cui loro non potevano. Dice che il significato più evidente è dei, verde. Cosa? Green, green, gold. Dei, dei, io dei, verde. Come io ho detto? Non c'è un'architettura di cui loro non potevano. No, come questo è il significato più... Un sacco di significati. Perché, innanzitutto, sono questi goblin, dei, dei della natura. di profondi, bassi le divinità irlandesi da una parte dall'altra è vero vera come per indicare i soldi è già molto tempo che si usa perciò dico che in lei c'è sempre come una nuvola di significato direi che si può iniziare il lavoro per chi vuole grazie grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti